un lavavetri guidavo un pullman turistico ed ero in romania a un semaforo si avvicina un lavavetri e mi chiede di pulire il parabrezza io li ho sempre cacciati via e lavavetri ma quella volta ho detto se mi pulisce un parabrezza così grande tu che sei così piccolo e con la tua scopetta che è così corta ti do 5 euro lui si è messo sulle spalle di un compagno gigantesco e mi ha pulito tutto il parabrezza gli ho dovuto dare 5 euro commento molti non danno elemosine perché dicono poi ci vanno a comprare da bere ma che cosa importa se la mia elemosina gli serve per comprare da bere l'essenziale è l'ampliamento che il fare l'elemosina ha prodotto nel mio intimo